Severini, Valerio Severini e ci presentano una scatenatissima e prezzante folca tipica romagnola dal titolo alla Casa dei Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e stanno ballando per voi, gentile pubblico, i maestri Marta e Valerio Severini loro sono gli attuali canzioni nazionali, classe e master di classe e volte e voglio sentire un fortissimo applauso Grazie a tutti